Il video Scatta? Sì, no, no, è solo... Scatta? È il video! Bello tour! Noi andiamo a Wadi Erbin Facciamo così Cosa c'è? Hai dato il filmino? Sì, un po' Guarda che belle penerame questo Wadi Erbin Tutti i colori, tutti i verzi Sì Signori di Costa Wadi Erbin Noi andiamo dentro In Costa Wadi Troviamo acqua Anche un po' oasi Anche ci sono le montagne Fra delle montagne c'è acqua È bellissimo la strada, puoi vedere Guarda, è nuova strada però Prima era tutto fuori strada Adesso loro fanno tutto Tutto buono Cioè stiamo solo noi Sì Guarda che più avanti c'è Ci sono rocce Quattro per quattro ci sono le macchine Perché di qua loro cambiano macchine Perché avanti non Non si va pieno Perché vedi che c'è Sì Guarda che 4x4 ci sono le macchine Perché di qua loro cambiano macchine Perché avanti non Non si va pieno Perché vedi che c'è Non vanno Sì E' un po' di sede Questo non è Questa è un po' di sede Ma è un po' di sede Ma è un po' di sede Ma hai fatto il giro d'America Il monumento a barri Sì, quindi lasciare la macchina puoi andare. Allora noi c'eravamo la macchina, lorreggio, nuova, nuova, non cazzo. Allora io ho detto vabbè andiamo giù là. No, no, si rovinava. Eh, no. È perché è tua, mi parito. No, andiamo con questa, no, no, no. Siamo andati con quelle di indiani perché si rovinava. Vabbè è meglio però perché è nella vita nostra che... Quella è di roba. Guardate il panorama. Che bello. Scusate. Oddio che bello, guarda. Ma stai facendo tu il video? Sì, sto facendo il video. Grazie, è bellissimo. Vi mando il video dopo. Le strade così. Sì. Perché durante... Però durante... Durante pioggia qua è difficoltà. Adesso ok. Ogni tanto devono fare nuove strade, nuove strade. Sì. Eh, quando vediamo questo è di un piaduto. Sì. Sì, sì, sì. Però, guarda, a destra c'è il fiume. Questa sfatterrante. Questa sfatterrante. Questa sfatterrante. È spettacolare proprio. Sì. Noi fermiamo il posto dove facciamo il foto. Ah, ok. In quella vaticia la macchina non si va. Camminare, camminare. È difficoltà. Questa è una macchina normale. Sì. Questa è una macchina normale. Sì. Questa è una macchina normale. avuterà un po' più. Si. Allora, guarda. Quella fa. Allora, guarda, guarda che ci sono come che vengono aggomi. Allora, guarda, guarda. Questa è liscia. Grazie a tutti. Che bello, le montagne, le palme, le datterie, guarda la montagna che alto. Adesso si, c'è comune? Cambio, cambio. Guarda ragazzi, siamo... Vati Erbin, oggi, guarda i nostri turisti qua. Tutti si divertano, Vati Erbin. Vedo vati. Tutto ok? A posto? Altro posto, sì. Però così, puoi scegliere qua, 15 minuti andiamo al cratere. Aspetta ragazzi, aspetta Mattia!